Due layer inutilizzato per esempio Dal menu a tendina AutoCAD Utilità disegno attiva comando elimina Nella finestra di dialogo apporta le modifiche necessarie, posiziona il cursore premi il tasto sinistro del mouse attiva comando elimina tutto Nella finestra di dialogo attiva comando elimina elementi selez Chiudi finestra di dialogo Dall'elenco a discesa layer verranno visualizzate le modifiche Grazie